Sale ancora il numero di cittadini contagiati nei comuni cilentani ed ieri sera il report del comune di Castellabate di nuovi 14 casi positivi. Ho da pochissimo ricevuto la comunicazione dell'ASL in merito alla situazione di oggi, dichiara il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Registriamo 14 nuovi casi positivi, quasi tutti i contatti di casi precedenti e in isolamento. Ho avuto anche la notizia di una persona che si è negativizzata, ma la situazione ad oggi è la seguente. 14 nuovi positivi, 49 persone guarite, per un totale di 94 cittadini positivi al Covid-19. Vi invito fortemente, sottolinea la Maiuri, al rispetto di quanto prescritto nell'ordinanza, evitando ogni spostamento non motivato da comprovate esigenze. Nonostante i tanti malcontenti registrati, credo sia stata una decisione giusta. In questo momento la nostra vicinanza deve andare a tutti coloro che stanno vivendo questa difficoltà e soprattutto ai due nostri concittadini che hanno avuto bisogno di ricovero ospedaliero. Altri 10 nuovi positivi nella città di Capaccio Pestum, con un concittadino che risultando negativo al tampone di controllo può essere considerato guarito. Il totale degli attuali positivi nella comunità di Capaccio Pestum si aggiorna a 54 unità con 80 persone in isolamento domiciliare e 241 cittadini guariti totali. Ancora due persone positive anche nella città di Agropoli. La nota stampa arriva dal primo cittadino da Mocoppola. L'Aslam ha aggiornato in merito a due nuovi casi di positività al Covid-19 nella nostra città. Nel contempo ci sono anche tre guarigioni, quindi il dato di positivi attuali è di 43 persone, mentre i guariti totali nella seconda fase della pandemia sono pari a 110. Raccomando a tutti, conclude il primo cittadino, di continuare a rispettare le regole anti-Covid-19. È necessario farlo in maniera ancora più attenta durante queste festività.